Cristian, partita molto sofferta, ma soddisfazione finale enorme. Sì, è stato fantastico fare gol e farlo davanti alla mia famiglia, davanti ai miei amici. L'ho aspettato da tantissimo tempo questo momento, ho aspettato quattro partite, ho provato a farmi trovare pronto e sono contento di questo punto. Che partita è stata? È stata una partita difficile contro un'ottima squadra, al primo tempo ci hanno messo in grande difficoltà, poi al secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa anche a livello tattico e siamo riusciti a far vedere che la termina c'è. A livello mentale quanto conta questo punto? Penso che conti tantissimo, credo e spero che possa portare continuità di punti, già da mercoledì, che avremo una partita importantissima in casa e sono sicuro che faremo bene. A proposito di questo, due partite in casa adesso contro due avversari molto forti? Sì, certo, ma abbiamo visto che ogni partita in Serie B è una partita di altissimo livello, quindi dobbiamo fare bene tutte le partite e sono sicuro che faremo bene soprattutto in casa. Buona giornata Grazie Grazie.